In ogni progetto che noi facciamo, noi cominciamo proprio una ricerca, ci immergiamo, scaviamo, scopriamo, ci entusiasmiamo, ci sono anche dei momenti di crisi e sicuramente le figure che sono al centro poi dell'indagine ci folgorano, noi ci innamoriamo di queste figure, non so, parto dal progetto Deserto Rosso, Monica Vitti, Giuliana, la figura di Giuliana, non puoi non innamorartene, cioè tu vedi Deserto Rosso, vedi Giuliana e la cosa meravigliosa è che poi ti fanno anche da specchio, cioè nel senso che appunto Giuliana è una donna che apparentemente sta bene, non gli manca niente, figlio, marito, sta bene economicamente, pure sta male dentro, sta male, sbatte contro la realtà, non ci sta dentro e ti fa da specchio, Cominci a capire, guardando loro capisci anche te e per cui è tutto un lavoro poi anche di scavo, di restituzione, assolutamente innamorati dei nostri personaggi. Lavorare sulla memoria è interessante nel nostro lavoro perché non è direttamente autobiografica, lavorando sulla figura, sul tipo di persona alla quale ci stiamo ispirando, sul quale stiamo facendo la nostra indagine, è lei che attiva qualcosa della tua vita, di quello che ti è successo e questo mette in moto i tuoi ricordi.